Ciao, oggi faremo un video bellissimo, salti dietro stoppati alla parallela Chi vuole fare il salto avanti può fare il salto avanti, eh? Chi vuole fare il fioretto può fare il fioretto Come vuoi fare? Come vuoi? Se no facciamo il salto indietro Eh? Guarda, la gara è stoppare, quindi puoi fare quello che vuoi L'importante è che stoppi Chi arriva prima a tre vince, ok? Volete fare una prova? No? Ok, quindi parti tu Emma, vai Gran volta, salto teso per Emma Stoppato! No! Mi hai fregato Perde i pezzi? Mi va ancora di salire Vai Uno! Brava Marty! È sceso un pezzo di coda Peccato, sei stata distratta dai capelli Peccato! Alessia Dov'è l'Arianna? Arianna, viene a fare il giudice con me L'Ari non lo fa ancora perché ancora non è capace Eh? Ma tra un po' lo farà anche lei Fai il giudice con me, dai Vai là davanti E guarda, quando stoppa non me lo dici, eh? Così siamo sicuri che non muovono i piedi Vai dall'altra parte, Ari Giadi Uno per Giadi Quindi Marti e Giadi sono a pari merito Pronta Emma? Peccato Cos'è successo, Emma? Martina Brava Marti, due Uno! Bravissima! Emma, se hai male le mani basta, eh Dai, Marti! Dai, Marti! Dai! Brava! Allora, la Emma si ferma perché ha male le mani, eh Visto che è la gara settimana prossima, va bene così Peccato che non ti vedi la teglia Brava Ale! Perché? Perché i gesticoli ma non sono spettacoli Giadi Vai Giadi, stoppa! Sì! Due Marti, se stoppi vinci Forse Forse Nooo! Ma Marti È la pressione della gara questa Peccato! Peccato! Marti? Da dove sali? Sì! Dove sali? Dai, 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 dai! Peccato! Alessia Chi è che era la prima? La Emma? La seconda? Amarti Brava! Due! Giadi Te sei l'ultima Giadi? Brava Giadi! Sei arrivata a tre Sei la campionessa di questa sfida Che vuoi? Non sono neanche abituata a stoppare l'uscita indietro Perché non la faccio mai Cioè faccio solo come preparazione Ma arrivo sempre di schiena Cosa devo dire? Che devo dire? Non sto capendo Adesso è da un po' che non lo faceva qua Dalle oscillazioni sì Vabbè però lì lo fa sempre dai Va bene Allora facciamo un grande applauso a Giadi Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale Lasciate tanti like E ricordatevi di attivare la campanella Per non perdervi nessun nostro nuovo video Ciao 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 Ciao